Devo dire che dopo aver sentito gli interventi di Cristian e di Carlo, mi sento alquanto preoccupato. Perché ho la vaga sensazione che ci sarà un certo scadimento di tono. Perché credo che le due interventi che hanno fatto sia Cristian che Carlo abbiano, diciamo, ben focalizzato alcune questioni teoriche che da un lato possono facilitare il mio intervento perché mi esime dalla necessità di dire delle cose che sono state già dette. Dall'altro però, nella chiarezza, nel quadro concettuale che emerge, pone una sfida, diciamo, non indifferente da questo punto di vista. Io cercherò quindi anche di collegarmi un po' agli interventi che sono stati fatti nella prima parte, nel primo momento di discussione di questo pomeriggio. E vorrei partire con alcune affermazioni abbastanza lapidarie. Innanzitutto, come è stato ricordato da Cristian, la moneta è uno strumento, non è un fine. Potremmo fare l'analogia dicendo che anche quello che Carlo chiama il reddito sociale garantito e che ha lo stesso significato di quello che magari qui in Italia chiamiamo reddito di base incondizionato, come reddito primario, ecco, anche il reddito di base incondizionato, il reddito sociale garantito, è uno strumento. E non è un fine. Ed è importante ricordare questo punto di partenza perché altrimenti si rischia di mettere un'enfasi sullo strumento dimenticando la sostanza che c'è dietro e la finalità con cui tale strumento viene utilizzato. La seconda affermazione è che la moneta, perché è stata, l'ho sentita, non mi ricordo chi l'ha detta oggi pomeriggio, ma spesso si dice, lo si dice ogni tanto, la moneta non è un bene comune, proprio perché è uno strumento. È espressione, potrebbe essere espressione del comune. E qui la distinzione che poneva Carlo Vercellone tra comune, declinato dal singolare, beni comuni, credo che sia fondamentale. Perché il comune è la condizione perché preesiste ai beni comuni, diciamo così. È la condizione perché i beni comuni possono esistere. Si collocano su due ambiti completamente diversi. Il comune è all'interno del processo di produzione e in una realtà capitalistica, quando parliamo di processo di produzione, intendiamo processo di valorizzazione. I beni comuni sono la forma con cui la valorizzazione si matura, in un certo senso. Sono due elementi concettualmente e anche logicamente molto diversi. Qual è che lega il comune e i beni comuni? Dico i beni comuni, potrei parlare di beni privati o beni pubblici, ma è dato che ovviamente la tematica, il tema del bene comune è alla page, quindi faccio riferimento ai beni comuni. Ecco, il ponte che li unisce è proprio la moneta. La moneta, da questo punto di vista, questa è una cosa ovvia, definisce un rapporto di potere all'interno dei meccanismi di produzione e di valorizzazione, ovvero di accumulazione capitalistica. e di conseguenza come strumento di potere non può essere mai neutra, perché il potere, per definizione, non può essere neutro. Tutto l'intervento, non sto a ripetere l'intervento che ha fatto Carlo sui due schemi, merce-denaro-merce e denaro-merce-denaro, perché... Però, nella discussione, che anche oggi pomeriggio è stata svolta in questa stanza, c'è il rischio ogni tanto di generare confusione, perché non è chiara la netta distinzione tra moneta come circolazione, ovvero mezzo di pagamento, unità di conto, e la moneta, invece, come mezzo di finanziamento che consente l'attività di produzione e quindi la valorizzazione del comune. Io credo che, se vogliamo mettere insieme moneta e comune, noi dobbiamo immaginare, e se vogliamo farlo e scrivere, il suggerimento di Christian, credo che debba essere preso seriamente, e lui, che l'ha lanciata l'idea, dovrà parteciparvi, ho torto collo, nonostante che adesso faccia così, ovvero, in un manifesto del comune, credo che uno dei primi punti, non so se il primo in assoluto, deve dire che una moneta è del comune, può freggiarsi di questo nome, indipendentemente poi dalla forma e dalle modalità che potrà assumere, nel momento stesso in cui è mezzo di finanziamento e non mezzo di scambio. Se noi guardiamo le mille monete al cosiddetto alternativo in circolazione, io credo che una infima minoranza possono avere a che fare con la funzione di mezzo di finanziamento. Questo già è un discrimine da questo punto di vista. E se noi domani mattina vogliamo discutere di un possibile esperimento che abbia come denominazione la sperimentazione della moneta del comune, dobbiamo partire, uno dei punti centrali è proprio la moneta come mezzo di finanziamento. Dire la moneta come mezzo di finanziamento significa dire quello che prima ha detto Cristian e quello che poi ha ribellito Carlo con parole diverse. Cioè Carlo parlava di moneta endogena alla riproduzione della forza lavoro. E Carlo parlava che la moneta come rapporto di potere è la misura del rapporto di sfruttamento. Se noi vogliamo creare una moneta alternativa, dobbiamo creare una moneta che non sia misura dello sfruttamento. e che sia in grado di consentire un'idea di quello che potremmo chiamare un modello di produzione dell'uomo per l'uomo, quindi non un modello che produce solo e esclusivamente valori di scambio, ma produce tendenzialmente valori d'uso, in cui la moneta consente questo in quanto mezzo di finanziamento. Qui c'è un grosso equivoco sulle questioni delle monete cosiddette alternative. perché c'è la... E qui la critica la critica prudona mi sembra molto calzante da questo punto di vista. Perché l'equivoco consiste nel fatto di pensare di creare un strumento monetario che sia in grado di riproporre un sistema di produzione di valori d'uso all'interno di un contesto di accumulazione capitalistica. Non è esodo questo. Non credo che sia esodo, perché non andiamo a fare la comunità hippie sulle colline piacentine o andiamo sulla luna. Vogliamo creare delle modalità di auto-organizzazione in grado di produrre valori d'uso. Magius faceva riferimento delle fazze. con una moneta che essenzialmente è veicolo di puro scambio. Come se noi ci trovassimo già in una sorta di barter economy di economia del baratto. Ora io non dico che magari sarebbe auspicabile una costruzione di una società che vede in cui la finalità è la produzione di valori d'uso e l'eliminazione di valori di scambio. Cioè una società non mercificata. Una società in cui non esiste il profitto. In cui la cooperazione sociale venga effettivamente valorizzata per quella che è. In cui il concetto di comuneismo perché il comune viene valorizzato è la nota formula maxiana della critica al programma di Gota. da ciascuno secondo le sue possibilità a ciascuno secondo i suoi bisogni. Però per arrivare a questo obiettivo non è possibile perseguire scorciatoie che rischino di creare ambiguità e addirittura di portare risultati opposti. Non è la declamatoria volontaristica che è sufficiente. E qui si pone un problema che è la seconda parte del mio intervento sono nove minuti che parlo ancora otto minuti sono giusto a metà che la dico in due parole perché questa sarebbe una tematica da affrontare. è chiaro che noi parliamo oggi di monete alternative perché la storia ce lo consente. È vero come diceva Christian che questi esperimenti dalle teorie di Gesell dagli anni 30 ma anche l'esperimento che ricordava Christian argentina ci rimanda indietro nella storia. Però io vorrei far notare che questi esperimenti questi qui del Vir che nasce negli anni 30 ad esempio di Gesell e quello dell'Argentina per fare alcuni casi sono forme di reazione a situazioni di crisi. Non sono forme di azione sono forme di passività in un certo senso cercano di reagire a una sorta di situazione di crisi che i meccanismi di accumulazione capitalistica hanno generato. I primi tentativi di cui parte Gesell è Weimar è la crisi di Weimar ovviamente. Noi dobbiamo pensare a una moneta alternativa che sia offensiva non sia difensiva perché molte di questi esperimenti oggi sono difensivi ed essendo difensivi si collocano all'interno di un meccanismo di sussunzione vitale del capitalismo. Negli anni oggi poi tra parentesi oggi quindi il tema delle monete a mio avviso il tema delle monete alternative è strettamente connaturato al presente perché il presente presenta scusate la cacofonia delle novità che ci consentono di parlare di monete alternative e queste novità sono tante però mi preme sottolinearne due una che era implicito nel discorso di Christian che oggi abbiamo assistito con la fine di Bretton Woods alla totale smaterializzazione della moneta è venuta meno l'unità di misura della moneta non c'è più legame con una merce fisica di riferimento i 35 dollari per oncia d'oro che era stata siglata negli accordi del 43 di Bretton Woods quindi la moneta oggi è puro segno si direbbe Marx contraddicendo lo stesso Marx del primo libro del capitale e di conseguenza questa significa che la moneta è libera e quindi può essere utilizzata ma ovviamente deve essere utilizzata come una finalità essendo un mezzo uno strumento la moneta e non un fine in sé per sé e bisogna decidere a che pro approfittare godere sfruttare questa libertà monetaria libertà monetaria che poi le tecnologie ci verificano perché il bitcoin le macchinette che fanno il bitcoin al di là che utilizzano elettricità o meno hanno una affascinazione perché ricordano la corlucopia di Remida cioè dal nulla si crea qualcosa che va quasi contro i principi della fisica perché l'immaterialità è qualcosa che va contro quella che è il nostro ambito di pensiero che abbiamo ereditato dal novecento e anche i meccanismi di accumulazione questa è l'altra novità i meccanismi di produzione sono prevalentemente immateriali e questo elemento questi due elementi l'immaterialità crescente tendenziale della produzione e la moneta che non ha più un ancoraggio materiale ma è completamente smaterializzata ci danno delle ampie possibilità in quell'articolo che abbiamo discusso nel seminario di al Gordniss College di Londra scrivevo che noi siamo di fronte a una grandissima opportunità del presente che dobbiamo essere in grado di sfruttarla allora prima che ci fossi questi cambiamenti noi eravamo l'economia capitalistica nell'ambito delle teorie chenesiane post chenesiane o max chenesiane tipo la teoria del circuito monetario prima Christian faccia riferimento a Bertrand Schmidt però noi possiamo fare riferimento a Augusto Graziani ad esempio parlavano e già Keynes utilizzava il termine di economia monetaria di produzione dove la centralità era la produzione manifatturiera la produzione materiale che veniva finanziata da una moneta gestita da mercati creditizi sotto un controllo statuale banche centrali e sovranità monetaria nazionale e lì la moneta entrava nel circuito economico come mezzo di finanziamento sotto forma di moneta creditizia essenzialmente e i mercati finanziari avevano un ruolo diciamo di che trattavano moneta di circolazione di realizzazione monetaria ma non di finanziamento della produzione e qual è stata l'alternativa che le forze antagoniste al capitale hanno maturato nel corso del novecento se noi vogliamo intervenire su un'economia di monetaria e produzione dobbiamo prendere possesso dei mezzi di produzione questa è stata la rivoluzione del diciassette la rivoluzione bolshevica l'idea che tu potevi superare il capitalismo appropriandoti dei mezzi di produzione perché era dell'appropriazione dei mezzi di produzione e quindi entrando nel rapporto capitale lavoro che si declinava come uomo macchina modificando questo rapporto riuscivi a sviluppare il soldo dell'avvenire la società comunista in realtà poi abbiamo visto che non è stato non era sufficiente questo oggi siamo in un'economia finanziaria di produzione dove l'elemento di materialità le modalità di organizzazione del lavoro sono completamente diverse non mi dilungo su questo ma in un'economia finanziaria di produzione il meccanismo di valorizzazione non è il profitto ma si misura in maniera molto incerta in maniera poco chiara in maniera ambigua in maniera tutta da studiare ma si misura nei processi di finanziarizzazione e la finanza è là dove l'espropriazione del comune che oggi sta alla base dei processi di accumulazione si realizza se la base dell'accumulazione dello sfruttamento nell'economia fordista terrorista è il rapporto di fabbrica oggi la base della valorizzazione è questo comune singolare di cui parlava prima Carlo e allora come negli anni del dopoguerra banalizzo scusate la banalità il rovesciamento dei rapporti di sfruttamento e delle gerarchie capitalistiche era appropriarsi dei mezzi di produzione oggi il rovesciamento dei rapporti di produzione è appropriarsi dei mercati finanziari appropriarsi e qui consentendo la riappropriazione del valore della valorizzazione che il comune la cooperazione sociale produttiva il generale intellect la vita stessa perché la vita noi siamo esseri animali che vivono in comunità in branco non da soli è in grado di produrre e allora a questo punto una moneta del comune deve essere inserita all'interno di un circuito finanziario completo che rappresenta un'alternativa ai circuiti finanziari tradizionali e adesso chiedo a Madu se mette la slide grazie questa non so se si vede bene è un tentativo molto abbozzato da ragionare eccetera non si riesce a in grandine no in cui è un circuito questo è un circuito finanziario alternativo di finanziario produttivo in cui c'è un meccanismo di finanziamento che è la moneta del comune in bluetto che utilizza e cosa finanzia finanzia quello che oggi è la base della valorizzazione del comune e qual è la base della valorizzazione del comune oggi da cui che capitale si appropria e fa suo sono i servizi sociali la cooperazione sociale e anche le produzioni alternative o fintamente alternative noi dovremmo inserire pensare una moneta del comune in grado di che entra e quindi ha ragione di esistere nel momento stesso che diventa finanziamento di investimenti in valore d'uso servizi sociali cooperativi e riproduzione della forza lavoro cioè forme salariali allora riusciamo a avere come output di questo come esito del processo di cooperazione sociale un modello antropogenetico di produzione dell'uomo per l'uomo cioè l'idea di un embrione di produzione alternative come già esistono perché già oggi siamo di fronte a miriade di esempi di produzione del comune di produzione alternativa e di autoproduzione e credo che questo posto sia un ottimo esempio come tanti altri posti che noi dobbiamo essere in grado di generalizzare dobbiamo essere in grado di dare a cui dare gambe perché mantenga la propria autonomia e non faccia non venga sussunto e sia in grado di estendersi e non venga ghettizzata e allora è importante che queste monete del comune qui ci sono si attua attraverso due subciscuiti uno quello inferiore quello principale è il pagamento della forza lavoro e la remunerazione e lo sviluppo delle economie di rete di apprendimento che sono la base della produzione di della cooperazione sociale che è in grado di remunerare il generale intellect attuare forme di potere di consumo eccetera che si deve basare sul fatto che ci deve essere un meccanismo di spesa di questa moneta che deve essere tutto da costruire e che quindi questo ci dice che la moneta del comune può iniziare a partire può essere sperimentata dove già esiste come precondizione una rete di cooperazione sociale in grado come ci ricordava Carlo di assumersela è la cooperazione sociale che crea la moneta non la moneta che crea la struttura di scambio su questo penso che sia ovvio ma bisogna ogni tanto ricordarselo perché certe sperimentazioni pensano facciamo prima la moneta e dalla moneta c'è un esempio clamoroso di questo la costruzione della moneta unica europea più eh in Europa prima si fa la moneta poi fatta la moneta come diceva Cavul facciamo l'Italia e poi facciamo gli italiani in Europa si dice facciamo la moneta e poi facciamo l'Europa gli europei e vedete come sta andando e questa è una cosa che anche noi dovremmo apprendere quindi questo ci obbliga a pensare se domani mattina discutiamo di esempi parati la prima domanda è ma qual è l'ambito l'insieme di soggetti dove io posso spendere questa moneta perché io non la creo per spenderla la creo come finanziamento di servizi sociali di redditi di base di common fair di pagamento di salari di salari integrativi eccetera che poi devono essere spese perché deve essere una moneta ex nilo che si distrugge nel momento stesso in cui il circuito produttivo si chiude per cui noi dobbiamo pensare una moneta del comune che se dobbiamo fare un manifesto una moneta del comune deve avere i parametri deve essere una moneta che entri come meccanismo di finanziamento sia una moneta in cui l'incentivo all'accumulo è come riserva di valore e quindi tutto il decumulo il demurrage tassi di interesse negativi eccetera ha queste caratteristiche e deve essere pagamento di lavoro deve essere collegato immediatamente e deve intervenire nel rapporto di sfruttamento capitale di lavoro poi come dice la saggezza popolare se sono rose fioriranno nel senso che se poi una volta che noi abbiamo pensato una moneta che entra con queste caratteristiche e trova un circuito il più possibile estendibile cumulabile nel tempo che si allarga magari in maniera virtuosa endogena ma inizialmente deve essere pompato sicuramente allora questo mette in moto un circuito alternativo che potrebbe diventare che non è sostitutivo dei circuiti tradizionali ma all'interno di quelli che sono i meccanismi di accumulazione capitalista quindi non è puro esodo è in grado di sviluppare delle alternatività qui e ora e concludo volevo dire una cosa ma non me la ricordo più vabbè concludo qui perché ho già parlato troppo grazie